A Chieti il segretario nazionale Simone Di Stefano di Casa Pound è arrivato in appoggio alla candidatura alla presidenza della regione di Stefano Flaiani. Nel capoluogo teatino è stata presentata la lista e sono stati ribaditi i punti programmatici di Casa Pound. Noi fondamentalmente stiamo divulgando questa idea, oggi infatti la stiamo spiegando molto meglio, il discorso del mutuo sociale per le giovani coppie per poter comprare casa, il reddito di natalità che permette a queste giovani coppie di avere figli, di mantenere queste spese, di sostenere queste spese, un rilancio sia delle attività lavorative e delle aree industriali e artigianali, un rilancio dell'agricoltura, la preservazione dei vari presidi sanitari presi nel territorio, un rilancio anche della legge regionale per la sicurezza, intendo, della polizia locale che è stata fermata e bloccata, al di là poi degli interventi che possiamo fare con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Difesa per carabinare le polizie di Stato, una nostra battaglia che per quanto non è di competenza prettamente regionale è la nazionalizzazione delle autostrade, e ne stiamo parlando adesso, un intervento unico e risolutivo sia per le erosioni costiera che per le erosioni fluviali. Questi sono i nostri punti, portiamo dalla nostra una politica che facciamo 365 giorni all'anno, portiamo dalla nostra 9 sedi che sono presenti in Abruzzo, portiamo dalla parte nostra una vera politica fatta a misura per e con i cittadini. Difendi l'Abruzzo, questo è il titolo scelto. Sì, diciamo che era difendi l'Abruzzo, oggi invece ci vogliamo riprendere l'Abruzzo, perché l'Abruzzo non è il problema, l'Abruzzo è la soluzione, il problema è che non vediamo la volontà, vediamo insistentemente dei proclami, anche da parte di questi big nazionali che ci vengono a trovare in terra d'Abruzzo, ma non ci portano mai un regalino, un pensierino. Cioè perlomeno noi abbiamo le cose che abbiamo fatto, abbiamo le nostre idee che vengono dalla gente, per la gente. Non saremo mai quei politici che dall'alto poi fanno discendere provvedimenti legislativi o reglamentari dall'alto verso il basso, e tutti i cittadini sono solo dei sudditi che devono sottostare a queste imposizioni.